Ciao a tutti amici retro A grande sorpresa vi propongo la versione di Alone in the Dark The New Nightmare per Game Boy Color Sappiamo che è stata una versione molto criticata perché è alquanto molto bassa di grafica e tutto Però a mio avviso questa versione qui avrebbe potuto avere dei frammenti di storia che sono stati scartati Per quanto riguarda lo svolgimento del gioco infatti ha una notevole importanza la figura di Charles Fisk Ovvero il migliore amico di Cardi, ovvero un investigatore privato che era stato assassinato Anche qui infatti come potete ben leggere si parla dell'assassino di Fisk E quindi si parla che ha fatto delle indagini proprio su Shadow Island E a questo punto, come potete ben leggere appunto dal discorso tra Aline e Carnby Perché vedrete appunto che qui è Aline che sta contattando Carnby Quindi c'è una differenza notevole per quanto riguarda lo svolgimento della storia Infatti in questa storia qui non si utilizzerà Aline Ma bensì sarà proprio Carnby il protagonista ufficiale di questa storia Qui avremo anche dei contatti con Aline anche se non avremo il suo aiuto per tutto il gioco stesso Tendo inoltre a precisare che purtroppo a causa di numerosi bug che accompagnano il gioco Specialmente anche per quanto riguarda l'emulazione di per sé Non sarà possibile vedere la ending Infatti purtroppo la ending la si può avere soltanto con cartuccia ufficiale Abbiamo la fortuna di avere proprio anche la versione ufficiale della cartuccia E vi dico che il finale è molto corto, proprio banale così Perché si basa proprio sull'uccisione di Alan Morton E poi con Carnby che lascia l'isola Però vi dico proprio chiaro e tondo Che qua la storia mostra delle differenze E per di più avrà anche un ruolo fondamentale diciamo Fisk Perché se nella versione PS1, PS2, PC, Dreamcast, quello che è Avremo anche il supporto di Aline Qua invece ci sarà Fisk Che in qualche maniera ci darà delle dritte A differenza di Aline che ci sarà un punto dove non la sentiremo più Pensiamo al peggio di lei Perché succederà qualcosa di brutto Comunque Lei lavorerà la traduzione di queste tavole Abkanis Che sono state ritrovate Avete visto infatti anche qui è importante la traduzione delle tavole Per quanto riguarda appunto Aline Ma noi utilizzeremo proprio Carnby E si terrà proprio in contatto con noi Avete visto? Le walkie talkie funzionano e tutto Per quanto riguarda l'uccisione dei nemici Ragazzi Durante la strada I percorsi non ne incontreremo nessuno Ci avviserà proprio Carnby Quando vedrà dei nemici E partirà proprio la sequenza di combattimento Che sarà proprio una sequenza molto particolare Avete visto infatti? C'è qualcosa per terra Bisogna capire che cosa è successo Qua si sta dando delle dritte su come raccogliere i tasti Avete visto che bene o male il design di Carnby è molto simile a quello della Playstation 1 Per quanto riguarda il suo volto Poi i movimenti sono un po' diversi Avete visto infatti Buona parte della foresta è stata riprodotta Non è brutto come gioco eh ragazzi Se abbiamo trovato un caricatore di pistola Anche qui possiamo utilizzare diversi tipi di armi Che avremo modo poi di raccogliere In questo caso abbiamo sempre la pistola fedele a Carnby Che lo ha accompagnato in tutti gli alone in the dark Ecco ragazzi Quando sentirà qualcosa Carnby che avvisterà dei nemici Partirà il combattimento Lassù in alto abbiamo l'indicatore di energia Abbiamo il numero di colpi ragazzi Dalla pistola Questi mostri sono dei ragnetti Nulla di difficile Durante il combattimento possiamo trovare anche delle munizioni Ragazzi Quindi non è affatto malaccio Guardandosi attorno abbiamo visto che molte zone sono state tagliate Sono state proprio rifatte E messe un po' così a casaccio Per semplificare un po' il gioco Infatti è molto semplice Molto intuitivo Questa versione qui Quindi a maggior ragione L'ho trovata molto bella Questa ragazzi È un'ampolla Questa ampolla qui ragazzi Permette a Carnby di recuperare buona parte dell'energia Abbiamo anche trovato dei nemici I ragnetti sono abbastanza semplici Questi sono dei Non so se sono queste le ombre o sono i cani Sembrava quasi un cane Questa ampolla qui ragazzi Permette a Carnby come ho già detto Di recuperare l'energia Adesso seguiamo la strada Esattamente Tanto bene o male perché ha giocato Le altre versioni un po' ci si riesce a orientare Però buona parte del gioco È molto corto e semplificato Avete visto anche lì la porta Ciò non toglie ragazzi che troveremo anche molte chiavi Insomma e oggetti che permettono appunto di interagire Qua siamo arrivati alla villa Di Alan Morton Non c'è alcun segno di vita Quindi anche qui è molto inquietante Le musiche erano piuttosto inquietanti Anche se non più di tanto Come si può dire fastidiose Servirebbe una chiave per entrare qua dentro Guardiamoci attorno e vediamo di trovare qualcosa Molte scene Molte immagini Ragazze Secondo me Ragazzi e ragazze Le avevano tagliate E sono state inserite come scarti In questa versione Diciamo Perché certe immagini del genere Non le si vedevano Durante il gioco Ma però Noto una leggerissima Somiglianza Per quanto riguarda appunto Il secondo Alone in the Dark La posizione per determinate cose Andando qua dietro Scusate i comandi Che non è semplice Orientarsi Andato qua dietro ragazzi Guardate E' un po' un tributo All Alone in the Dark 2 Con le Guardate cosa dice Sembra che non ci sia nessuno dentro Infatti era passato qualcuno Anche nella Alone in the Dark 2 C'era qualcuno Che passava tra le finestre Sì scusate i tasti ragazzi Qua dovrebbe esserci qualcosa Qua vicino Qua siamo nella parte Dietro Qua c'è un cancellino C'è una grossa capanna Del magazzino E le porte sono chiuse Con un grosso lucchetto Abbiamo una vecchia chiave Utilizziamola Contiene un paio di vecchi guanti E un piede di porco Che ci sarà alquanto utile Qua in vista Dobbiamo aspettarci di tutto Che attenzione Vediamo di eliminare Ok Ah un'altra cosa Che volevo farvi Vedere Qua c'è un'ampolla Questo C'è solo una sterile brughiera Qua praticamente ragazzi Nella parte dove Aline Sarà Diciamo Perseguitata Da Da Howard Per quanto riguarda La versione playstation 2 E playstation 1 Però a noi Più di tanto Non ci interessa qui Adesso Non interessa Entrare nella villa Nel portone principale Usiamo il piede di porco Sì scusate i tasti Ok Abbiamo forzato la porta Siamo riusciti a entrare Allora qua in alto Ragazzi saliamo le scale E qua c'è una chiave da reperire Avete visto È una chiave d'oro Scendiamo di nuovo Scendiamo di nuovo Scendiamo sempre il walkie talkie con noi Qua c'è Un caricatore di una pistola Con dei proiettili Comunque Va bene Qua ci sono dei nemici Vediamo di Sistemarli Avete visto che anche durante il combattimento Abbiamo la possibilità di Trovare dei proiettili Questi potranno esserci molto utili Specialmente quando dovremo affrontare poi Alan Ok guardiamoci attorno Ok questa porta qui Adesso non ci serve Dovrebbe esserci uno specchio qua vicino ragazzi Ok la chiave d'oro Questa è da utilizzare Lo specchio è importante Ok ragazzi vi dicevo La figura di Fisk Era molto importante Perché Fisk sarà diciamo Una specie di angelo custode nostro E' stato ucciso su quest'isola qua Infatti ci sta spiegando quanto è accaduto Adesso dobbiamo ritrovare il suo amuleto Perché senza il suo amuleto Sarà debole E non potrà esserci più di tanto utile Una volta che avremo ritrovato il suo amuleto Sarà in grado di Darci suggerimenti e contattarci Quindi è veramente molto utile La figura di Fisk In questa versione di Alone in the Dark Su questo ragazzi ve lo posso assicurare E l'amuleto Vi farò vedere anche dove si trova Infatti ci sta chiedendo di ritrovarlo Adesso vediamo di entrare nella porta qua vicino Facciamo il giro un attimo Dovrebbe essere proprio qua Ecco qua dietro Ok Questa porta è chiusa Manca la maniglia Adesso non può aprirla Quindi la porta è questa qui allora Ok Anche qui ragazzi facciamo Molta attenzione C'è una porta qua Benissimo Questa è quella che porta nella biblioteca Vi ricordate? Bene o male è anche abbastanza simile Non dobbiamo avere grossi problemi Dovremo trovare anche dei file Qua riguarda appunto il diario di Morton Di Alan Morton Possiamo anche dargli un'occhiata A tutto quello che contiene Anche qua sono presenti dei file Grazie Grazie Molto bene Adesso che abbiamo letto i file Riprendiamo il nostro walkie talkie E andiamo avanti a esaminare qui La questione Non preoccupatevi Qua non incontreremo Il terrificante boss Che rappresenta diciamo La biblioteca Che abbiamo visto Con Carnby Ma Non ci sarà nulla di minaccioso Al massimo qualche schifezzino Un po' in giro e tutto Saliamo le scale Si è tutto tranquillo Si è tutto tranquillo ragazzi Non preoccupatevi Al massimo incontreremo qualche nemico Qua avete visto C'è un meccanismo C'è un interruttore Nascosto dietro i libri Ok Attivando questo meccanismo Si aprirà La porta segreta Come bene o male Accadeva Nella versione Di Carnby Per quanto riguarda PlayStation 1 PlayStation 2 E Dreamcast Chiaramente Ci troviamo sempre Qualche nemico Qua da affrontare Nulla di Esageratamente minaccioso Avete visto che Meno male L'eliminazione dei nemici Porta anche ad acquisire Un po' di proiettili Quelli erano proiettili Del fucile Avete visto E quelli torneranno Sempre utili ragazzi Molto bene Siamo in questo stanzino qua Vediamo che cosa abbiamo trovato Una chiave di cristallo blu Anche qui ragazzi Le chiavi sono un po' Differenti rispetto Alla versione Normale Esaminiamo anche qua Cianfrusaglie E un po' di libri E uno di questi È nascosto Da un foglio Di carta Diario di Alan Morton Esaminiamo anche il file Ritaglio di giornale No non è questo Vabbè comunque Vi farò vedere Anche l'altro file Ah è importante anche la mappa Di Shadow Island Ve la posso anche fare vedere Adesso usciamo C'è ancora una parte Da visitare Che si trova al piano superiore Esatto Raccogliamo il caricatore Per la pistola Perché anche questo Sarà sempre molto utile Dovremmo incontrare Anche dei nemici Se la memoria Non mi inganna Esatto Vabbè nulla di difficile Ragazzi Siamo già armati Fino ai denti Quindi Purtroppo a volte La mira non è di certo Il massimo Però vabbè Perlomeno Li abbiamo ammazzati Altro qua Non c'è Si poteva anche evitare Questa battaglia qui Però Io ve l'ho fatto a vedere Visto che si tratta Di un gameplay al 100% Mi spiace solo Di non riuscire A mostrarvi Il finale Che accompagna Diciamo questo gioco qui Perché purtroppo A causa di un emulatore Cioè Ho provato anche Con tre emulatori diversi E il bug Si manifesta Quindi ragazzi Purtroppo È un gioco Che è stato strutturato Così Però Avendo l'idea Di concentrare tutto In una cartuccia così Molti la definiscono Un po' Una cavolata pazzesca Ma noto invece Che giocare Diverse versioni Di Alone in the Dark Non è affatto male L'ho trovata Una cosa Un'idea abbastanza carina Comunque Usciamo di qui Adesso non abbiamo Altro da fare Vediamo qua Questa porta qui È chiusa Andiamo Indietro C'è questa porta qui A lato da visitare Questo corridoio Ve lo ricordate Vero? Abbiamo trovato Un caricatore Di una pistola Potremmo anche Rischiare di trovare Dei nemici Qui Esatto Benissimo Raccogliamo anche Altre munizioni Che possono sempre Servire Ok Scendiamo qua La porta dovrebbe essere Chiusa Se la memoria Non mi inganna Allora dovrebbe essere Proprio questa porta Qui dietro Facciamo il giro opposto Qua troviamo anche Delle tracce di sangue E fresco Dirà Carnby Sicuramente qualcosa È stato vittima Di quei mostri Questa porta qui Ah ok Lo studio Benissimo Qua troveremo Un fucile ragazzi Però Non potremo ancora Utilizzarlo Perché è stato tolto Un meccanismo E questo meccanismo qua Che serve per farlo Utilizzare Lo troveremo nel solaio Grazie all'aiuto di Fisk Allora qua Abbiamo trovato L'esame della cassa Ha rivelato Un documento Una pagina tratta Dal diario Di Alan Morton Che potremo anche Poi esaminare Questa porta è chiusa Ok Qua il sangue È ancora Caldo Quindi è freschissimo Questo Raccogliamo delle munizioni Che si trovano proprio qui Caricatore della pistola E adesso andiamo Un attimo Oh qua non c'è niente Perché la strada è chiusa Andiamo un attimo Qua sopra Possiamo sbloccare anche la porta Grazie all'ausilio Della chiave La chiave La chiave blu Ok Questa porta qui Adesso è chiusa Però in questo corridoio qui Dovremmo incontrare anche dei nemici Quindi ragazzi Se avete delle ampolle Oh oh Ci ha chiamato all'inne Carnby c6 Quindi Alin si sta trovando in difficoltà Quindi come se stesse arrivando qualcuno A darle fastidio Eh lo so Ho incontrato adesso dei mostri Ma il bello è che probabilmente Poi Alan Morton La inseguirà Però adesso noi Claire era rimasta lì Con la traduzione A pensare a tradurre le tavole Vediamo qua cosa c'è Ok affrontiamo dei nemici Qua non c'è nient'altro Qua c'è un meccanismo ragazzi Questo è un interruttore elettrico Che ha permesso di riattivare la luce In quella parte lì del corridoio Che sennò sarebbe stato tutto buio E non avremmo visto un cavolo Usciamo da qui Ah questa porta qui Dove c'è lo specchio Non cagatela di striscio Perché proprio non fa nulla Qua c'è Munizioni per la pistola Allora qua vicino dovremo trovare in teoria L'amuleto per Fisk Eccolo qui E dovremo poi in teoria riportarglielo Però qua attenzione perché c'è una porta Ok Una grossa chiave di ottone Affrontiamo dei nemici Vabbè nulla di difficile Perché sono i soliti ragnetti Rompiscatole E il cagnolino Boh Andato Vabbè Nient'altro Usciamo Adesso dovremo in teoria riportare L'amuleto a Fisk Raccogliamo l'ampolla Attenzione qua eh Purtroppo ci troviamo altri nemici Però abbiamo la possibilità di recuperare un bel po' di munizioni qua eh Perfetto Perfetto Questa qua di ottone Questa qua di ottone dovrebbe essere lei Sì esatto Anche perché è l'unica Saliamo nuovamente le scale Qua dovremo in teoria arrivare in soffitta Però qua dentro non possiamo fare nient'altro perché è importante l'aiuto di Fisk Se no va a finire che purtroppo qui Rischiamo di esaminare la soffitta E non andarcene fuori Perché senza Fisk Noi non possiamo quindi Trovare la parte mancante del fucile E altra roba che c'è lì dentro Quindi perciò Usciamo da qui Ritorniamo di nuovo nella hall principale E andiamo a parlare con Fisk Dandogli quindi L'amuleto Secondo me ripeto Era un'idea che hanno veramente scartato l'aiuto di Fisk E quindi hanno pensato con molta probabilità di inserirlo nella versione Game Boy Color Penso eh Questa è soltanto una mia supposizione Avviciniamoci allo specchio Teniamo sempre a portata di mano l'amuleto di Fisk E diamoglielo Ok abbiamo ridato l'amuleto Adesso parliamogli E possiamo parlare ancora Cosa ti è successo? Quando sono arrivato pensavo di interrogare gente E invece purtroppo è stato ucciso Ha trovato anche un bordello di mostri Ha trovato praticamente usato la statuetta per aprire un portale verso il mondo dell'oscurità E ormai Morton è stato praticamente corrotto e deformato dal male Ed è diventato praticamente una bestia E non sarà di certo semplice a fermarlo Nel cos'è stato della statuetta? Vedete ti sta dando praticamente una dritta per trovare il meccanismo che permette di tornare funzionante il fucile Quello sarà veramente utile Si troverà nella soffitta Quindi adesso ritorniamo di nuovo dove eravamo prima E andiamo di nuovo nel solaio Seguendo sempre il corridoio Arrivando proprio Esatto Proprio qui Saliamo le scale Ed esaminiamo quindi la situazione Dunque vediamo qua che cosa c'è Qua c'è una porta Che quindi conduce evidentemente al punto Proprio il solaio lattico Qua invece nella versione Nella versione PlayStation 1 PlayStation 2 Di Rimcast Qua si trova Lancia Granate con Carnaby Qua invece non stiamo trovando proprio nulla Però troveremo della roba interessante qua dentro E affronteremo anche diversi nemici Sì Sì qua sembra un po' un labirinto Siccome ripeto sono state inserite delle immagini che sono state proprio scartate Ok abbiamo trovato qualcosa Questo è il meccanismo Del fucile Cioè sentito un rumore E' saltato fuori qualcosa dalle casse Però avete visto che adesso possiamo utilizzare il fucile Abbiamo anche 10 colpi Avete visto? Ma purtroppo non ci sono proiettili da reperire Quindi ha detto Ha parlato delle casse Andiamo a vedere che cosa Oh 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 Devi dare la caccia a morto N'è passato per il sotterraneo Devi cercare nel solaio Una chiave per aprirlo Dovrebbe esserci una chiave qui da qualche parte Eh purtroppo è un po' tutto un labirinto qua L'orientamento non è di certo il massimo E' l'orientamento non è di certo il massimo Ecco dovrebbe essere esattamente qua Eccolo qua avete visto? Qualcosa sta lucicando Abbiamo trovato praticamente la maniglia Sì ho detto chiave ma in realtà è proprio una maniglia Che ci permette quindi di Di aggiustare la porta E allo stesso tempo andare Oh oh qua ci sono dei nemici Vabbè ammazziamoli tranquillamente Anche se i proiettili No stavo dicendo stanno iniziando a scasseggiare Però in questa fase qui Possiamo trovarne molti Però i momenti sono più quelli che sprechiamo Che recuperiamo accidenti Forse non so se ce ne sono altri qua dietro Vabbè 67 colpi e 10 del fucile Non è male Boh pensiamo adesso ad abbandonare un po' Oh qua c'è una pozione Sì possiamo anche curarci volendo Se proprio Sì le pozioni non tutte Forniscono lo stesso quantitativo di energia Quindi Cerchiamo di tenere le pozioni Per quanto riguarda appunto La battaglia con Alan Morton Ok Siamo usciti da qui In questa fase un pochettino labirintica Adesso che abbiamo praticamente trovato Quello che ci serviva Ovvero una maniglia per la porta Scendiamo E andiamo di nuovo verso la hall Vi ricordate che c'era una maniglia Una porta senza una maniglia O più che altro era rotta Adesso torniamo giù Nella stanza principale E andiamo a sistemare quindi quella porta In modo tale da andare nei sotterranei Andiamo qui nella hall Dovrebbe essere proprio qua vicino E' questa Perfetto E scendiamo praticamente qui Vi ricordate qua Praticamente nella fase iniziale del gioco Aline aveva visto una bara E all'interno aveva trovato Aveva visto una chiave Però prima c'era una visione di Aline morta Questa porta qua Adesso non possiamo aprirla Perché prima ci serve da trovare qualcosa Che si trova esattamente qua Sì giusto Scusate i tasti Qua ci sono dei nemici Vabbè sistemiamoli Sono dei proiettili Questa cantina qua invece Mi ricorda un po' Il primo alone in the dark Stiamo utilizzando il fucile Avete visto quanto picchia Proiettili così Sono quelli del fucile Vorrebbero esserci altri colpi Forse qua dietro Sì Benissimo Praticamente sono sei colpi Bene 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 E niente Ammazziamolo E andiamo avanti Ok vediamo che cosa c'è qui Ah sì La polvere d'oro Polvere grigio Vabbè D'oro e argento Un mix diciamo Adesso in teoria dovremo andare In quella discesa sotterranea Perché troveremo un sarcofago Hai visto che sono stati un po' mischiate le immagini Così eh Qua dobbiamo inserire il mix di polvere Perfetto Ed è quello che dobbiamo fare Adesso attiviamo il meccanismo Che si trova dietro C'è un'incisione Per avanzare nella vita Devi trovare qualcosa Nel tuo equilibrio Ok Cerchiamo di equilibrare la statua Sono state messe in posa Apriamo il meccanismo C'è la porticina Dentro il pannello del sarcofago C'era una pietra E una chiave Adesso vediamo di utilizzare Quella chiave lì Per aprire la porta Che abbiamo visto prima Senza di essa Non possiamo proseguire Eccola qua La porta lì in teoria è chiusa Quindi noi utilizziamo la chiave E andiamo avanti Chiave d'argento Ok Adesso stiamo per lasciare Diciamo La villa C'è una sfissia Qua troveremo proprio Il sistema funiario Della villa Qua Dobbiamo fare attenzione A queste piovere Che ci sono qui E non è il massimo Non voglio sapere Su cosa sono appena passato Cerchiamo di Ecco Non passarci sopra Perché sennò Queste ci tolgono energia Questi tentacoli Mentre nella versione Playstation 1 Playstation 2 Dreamcast Ci trovavamo Quella enorme Ombra Serpente Che ci attaccava Noi abbiamo soltanto qui A che fare con dei tentacoli Il trucco sta nel levitarli E non dovrebbero Nuocerci Alla salute E proseguiamo Fino all'uscita Questo Fisk Ci ha contattato Presta attenzione Che il mostro di Alan E' qua molto vicino Cercherà di Distruggerti Vabbè Non importa Adesso gli daremo Il benvenuto Anche a lui Non Signor Fisk Lei non si preoccupi Siamo usciti fuori All'esterno Avete visto Raccogliamo Le munizioni E siamo già Praticamente Già In zona Forte Eh Non si Avete bisogno Del gioco Dei quadri Del meccanismo Per uscire fuori Quindi Avete visto Che è stato molto Basilare Come gioco Qua purtroppo Lo spreco Di munizioni Un po' Ad alto livello Perché Oltre ad esserci Tanti nemici Ok 70 colpi Ci sono rimasti 37 delle fucile Non è male Andiamo avanti Arrivare a un punto Ragazzi Dove qua Nella versione Normale Carnaby Faceva rituali Grazie all'aiuto Di Aline Qua c'è un cerchio Di pietre Ok Adesso incontreremo Morton Eccolo qua E qua Morton è proprio Arrabbiato Come una bestia La figura qua Di Morton È molto inquietante È anche molto violenta Perché qui Morton ragiona anche Mentre nella versione Finale del gioco Nella Allonite Dark Normale Morton Era proprio Andato fuori Di senno Qua invece Tende a ragionare Un po' di più Siamo riusciti Anche già A colpirlo No no Non l'hai ucciso Carnaby Se n'è soltanto Andato Adesso vediamo Di uscire Sì La strada è questa Sì Ci stiamo dirigendo Proprio verso Il forte Ok ragazzi Qua c'è la possibilità Di salire C'è una pianta rampicante Possiamo salirci Grazie all'ausilio Dei nostri guanti Però prima di salire Sopra Possiamo guardarci Un po' attorno Per reperire Qualcosina di interessante C'è anche una cosa In più Che voglio farvi vedere La porta è chiusa Se ci guardiamo Attorno ragazzi Qua raccogliamo Le munizioni Qua proviamo Troviamo prima Dei nemici Questo incontro Si poteva volendo Evitare Perché bastava Per dire Utilizzare i guanti E salire subito sopra Invece Vi voglio far Proprio vedere Tutto quanto È di mia conoscenza Accogliamo le munizioni Caricatore della pistola E andando qua dietro Proprio Alla base del forte Troveremo Una piccola chiavetta Una chiave delicata E anche un po' Danneggiate tutto Perché vabbè Forse era lì da tempo È stata utilizzata Troppo Non so Però ragazzi Adesso vi farò vedere Questa qui È la chiave Per entrare nel portone Principale Del castello Del forte Diciamo Utilizzandola Però purtroppo Succederà Che la chiave Si è rotta In teoria Questa cosa qui Si poteva evitare Ma io ve l'ho fatta vedere Ugualmente Adesso Noi Utilizziamo I nostri guanti E arrampichiamoci Sopra il tetto Del forte Perfetto Siamo saliti Attenzione Perché qua possiamo incontrare Magari Dei nemici Se fosse necessario Possiamo anche curarci Un po' Perché La nostra energia Sta un po' calando Almeno così Abbiamo revitalizzato Un po' Carnby Andiamo avanti Qua in teoria Incontreremo Dei nemici Vabbè Noi massacriamoli E andiamo avanti Sono più questi Che tendono a fare Perdere un po' Di tempo Però ragazzi Avete visto Che troviamo Un sacco di munizioni Qui Non sono riuscito A prendere Quei proiettili Di pistola Vabbè Non fa niente Scendiamo qua Le scale Ok Siamo proprio Nei sotterranei Del forte Questa parte qua Mi sembra Che la si visitava Con Alin Se la memoria Non mi inganna Prendiamo la pozione Giusto Attenzione Che qua Ci troviamo Altri nemici Madonna mia Qua ce ne sono Un bordello Ne ho perso Anche parecchie energie Parecchi proiettili Vabbè Non importa Qua dietro Forse c'è qualcosa Sì Dovrebbe esserci Sì In questo tronco Qua ragazzi Abbiamo trovato Una chiave d'osso E sarà da utilizzare Più avanti In questa porta qui Qua dietro però Se non mi ricordo male Esatto Possiamo entrare Sì Qua dovremmo in teoria Utilizzarla Qua invece È la sequenza Del laboratorio Che porta Sì Del laboratorio Di Alan Morton Se non ricordo male Questa è una balestra Qua possiamo utilizzare La chiave Che abbiamo reperito Perfetto Perfetto Questo è il laboratorio Di Alan Morton Anche qui ragazzi Ci sarà un giochettino Da fare Come Praticamente Succedeva proprio Nel gioco originale Anche se qua È stato messo In una maniera Un pochettino Più semplice Qua troviamo Praticamente Le frecce per la balestra Quindi anche qui Saranno alquanto utile Per massacrare Determinati nemici E adesso cerchiamo C'è una porta Che è chiusa Da delle scariche elettriche Da una scia Di Elettricità E noi dovremmo Disattivarla Praticamente Qua Vicino C'è un tavolo Operatorio Ok guardiamoci attorno Un interruttore Che serve Praticamente Per aprire Il meccanismo portale Che avremo modo Di Farlo dopo Dobbiamo trovare Quindi Ok Piccolo generatore Connesso Alla rete Elettrica Serve praticamente La protezione Prima di metterci Su Le mani Generatore È stato spento Ma l'interruttore È sempre attivo Ragazzi Noi adesso Dovremmo trovare Una piccola bomba Che si trova qui Qua dietro Sì in questo Arma dietro qui Se non sbaglio È un piccolo Congegno esplosivo Che dovremo applicare Al generatore Al fine di farlo saltare Perché se Noteremo qua dietro Avete visto che la porta C'è un campo elettrico Che tende a bloccare Quindi l'entrata E noi adesso Dovremmo farlo saltare Con questo piccolo Esplosivo Che abbiamo trovato Scusate i tasti Ma purtroppo Non è semplice Uscirne fuori Dovremmo applicarlo Proprio qua Dietro Applicandolo L'interruttore Si disattiverà E noi praticamente Riusciremo Ad andare oltre Apriamo il nostro inventario Perfetto Piccola bomba Applichiamola Perfetto Lo scopio dell'interruttore Sembra aver tolto La corrente Avete visto che la porta Effettivamente Si è aperta Noi andiamo avanti Visto che la porta Si è aperta Entriamoci E vediamo che cosa Troviamo Ok Attraversando questo ponte qua Possono vedere le caverne Sottostanti Ok ragazzi Ci stiamo avvicinando Proprio alla parte Dell'oscurità Eh qua Purtroppo ci troviamo Ogni tanto dei nemici Qua ce ne troveremo Tanti Specialmente fare molta attenzione Perché la nostra energia Sta scasseggiando Qua sono proprio Delle ombre vere e proprie Fanno un male boia Queste Avete visto? Non so come Cavolo sono riuscito A venirne fuori Purtroppo non sono riuscito A reperire anche Gli altri proiettili Quindi me ne scuso Amici Ok andiamo avanti Stiamo per giungere Proprio nel tempio Degli Apkanis Eh altri nemici Abbiate pazienza Affrontiamoli tutti L'unica pecca Che mi sono scordato Di Ricaricare un po' L'energia Carnby Se sopravvivo Vedrò di Sì vabbè Erano pochi nemici Per mia fortuna Ok Andiamo Tirando Tirando e spingendo La pietra Brillante Si muove levemente Ma non Abbastanza Vabbè Vediamo di utilizzare Quindi il nostro Piede di Porco Prima ricarichiamo L'energia Perché Carnby Così almeno si mette Un po' In regola Riapriamo di nuovo L'inventario E vediamo di utilizzare Il piede di Porco Ah Ricarichiamo prima Ancora un po' Di energia Che adesso con l'energia Siamo esattamente a 26 Prima eravamo proprio Ridotti allo schifo Perfetto Si sente un cigolio Di una porta Che si apre Vediamo di cosa si tratta Ovvero questa Seguiamo proprio Il corridoio Qua dovrebbe esserci qualcosa Nella versione normale Invece trovavamo L'ira di dio Qua Ok Attenzione Che qui siamo giunti Quasi alla fase finale Del gioco Si la strada è giusta Andiamo in giù Traversiamo il ponte Però qua adesso Rischiamo di trovare Dei nemici Il sentiero è bloccato Ma non preoccupatevi Perché basta che ci avviciniamo A questa colonna qui Utilizziamo nuovamente Vedi c'è un buco Nel pilastro Utilizziamo ancora una volta Il nostro Il nostro ingegno E spingiamo Questa fase qui La si vedeva con Alin Se vi ricorderete Altre nemici Proiettile del fucile Ti ho visto quanto sono forti Le balestre Almeno li ho massacrati Velocemente E non abbiamo avuto problemi Tanto Alin Morton Possiamo sempre utilizzarlo Con Utilizzare il fucile Utilizziamo questo Teletrasporto Che ci porterà In un altro luogo Tanto poi Dopo dovremo tornare indietro Qua ragazzi Inizierà una piccola fase Labyrinthica Qui abbiamo trovato Un candelotto di dinamite E una miccia Qua dovremo andare Un po' a labirina A intuito ragazzi Perché non è semplice Trovare la strada Una volta trovato la strada Vedrete che cambierà Il tutto Sembra che la strada Sia sbagliata Lo so Non è semplice Dovrebbe essere la strada Corretta adesso Oh Trovata Una gemma incastonata Nella caverna Una volta sollevata Inizia a scintillare Boh Seguiamo adesso invece Questo percorso Che ci porterà quindi A un'altra strada Tranquillamente Giusto ragazzi Non preoccupatevi Arriviamo a un punto Dove avremo Due direzioni Da prendere In una parte Dovremo Ok Attenzione perché Qui dovremo Combattere Ancora Facciamo attenzione Perché abbiamo Poca energia Fortunatamente il fucile Questo fa male Ok Raccogliamo l'energia Almeno adesso Possiamo anche utilizzarla Per ripristinarcene Un po' Perché siamo ridotti Un po' Male Sarà meglio Prenderne anche Un'altra Ok Boh Andiamo avanti Ok Altri nemici Tanto adesso abbiamo Tante energia Oh colpi della balestra Oh Colpi della pistola Benissimo Che culo Ok Scendiamolo qua Scendiamo Si Era il punto Che vi dicevo Ci troviamo adesso Due direzioni Una a sinistra Una a destra Prima andiamo Da questa parte Perché qui Dovremmo utilizzare Il nostro candelotto Di dinamite Che abbiamo appena reperito Eh però Ci troviamo ancora Altri nemici Qua è un combattimento Unico purtroppo Eh sono molto forti Eh sono molto forti Perché ti circondano E non c'era neanche possibilità Di reperire dei colpi Vabbè Non fa nulla Ok avviciniamoci qui Oh perfetto Qua dentro Qua dentro Qua dentro giusto Andiamo davanti Quanti cavolo Di nemici Che ci troviamo Sono un po' Noiosi Dopo un po' Colpi della balestra Che non ci crederete Ma la balestra È l'arma più forte Madonna mia Quanti ragnetti Del cavolo E tanto Sopravviviamo Ugualmente Ok stavo dicendo Arriviamo davanti Questa stato qui Posizioniamo quindi Un sinistro totem Lo definisce Carnby Dobbiamo quindi Posizionare il nostro Questo totem È maledetto Quindi dobbiamo Farlo saltare in aria Con il nostro Candelotto di dinamite Prima è meglio Ripristinare un po' La nostra energia Perché eravamo ridotti Un po' Uno schifo Noi ne abbiamo Cura di energia Sistemiamo il candelotto Di dinamite Perfetto È posizionata Adesso utilizziamo L'accendino Quindi sarà meglio Allontanarsi Perché causerà Un'esplosione Piuttosto forte Quindi usciamo Da qui Velocemente Boh è saltato Tutto in aria Ha causato Un'esplosione La dinamite Andiamo a vedere Che cosa è successo Boh Possiamo tornare indietro Adesso che Questo totem qui Praticamente ha distrutto Una specie di campo magnetico Che permetteva Che impediva Diciamo Di andare avanti Qua Praticamente Proteggeva Una statua Degli Apghanis Ed è questa Quella che a noi Interessava Ed è l'unico modo Per Sconfiggere Alan Morton Adesso Veniamo teletrasportati Siamo nell'ufficio Di Obed Morton Che qua Praticamente Non veniva mai Citato Obed Morton Siamo praticamente Ancora dentro La villa Ragazzi Adesso prendiamo Ciò che ci interessa A noi Qua c'è il suo ufficio Esaminiamo tutto Se possiamo reperire Un po' di munizioni Se possiamo reperire Ancora un po' di Energia Insomma E per di più Anche Rivitalizziamo Carnby Perché effettivamente Sarà molto utile Nel prossimo scontro Perfetto Abbiamo fatto proprio Il pieno di energia Guardiamo se c'è ancora Qualche Qualcosa da prendere Qualche file Qualche Munizione Qualche pozione No qua non c'è nient'altro Io prefisco ugualmente Fare un eventuale giro Si sa mai Che possiamo sempre Trovare qualcosa Scaffali pieni di scatole Vabbè qua non c'è nient'altro Niente Bom Usciamo Questa è la porta Questa è chiusa Dobbiamo utilizzare La chiave d'osso E siamo di nuovo Qua nella villa Ora non dobbiamo Far altro che uscire Direttamente da qua Attenzione che Carmi ci ha Fisk ci ha Contattato Che Alan Morton È ancora vivo Ci sta aspettando fuori E vuole Praticamente farci fuori Perché abbiamo La sua statuetta E adesso Non dovremo Farsi di uscire Proprio all'esterno La strada è proprio Questa qui Si giusto Andando all'esterno Lo incontreremo E non dovremo Far altro che Sconfiggerlo In una battaglia Praticamente La modalità Di battaglia È molto simile A quello Che abbiamo visto In precedenza Morton Ci aspetterà Qua fuori Sarà incavolato Come una bestia Ci minaccerà Di ucciderci E noi Non dovremo Far altro che Restituirgli il favore E massacrarlo Proprio Da bestia Quindi ragazzi A maggior ragione Consiglio di Ricaricarvi Il più possibile E andiamo Ad affrontare Quel simpatico Balordo Di Alan Morton Vi ringrazio E vi saluto Per aver visto Questo gameplay Vi lascio Alla battaglia finale Mi spiace ancora Che non posso Mostrarvi Il finale Vero e proprio Perché purtroppo A causa di questo Bug di emulatore È stato bloccato Ma questa è Tutta la concentrazione Del gioco Per quanto riguarda Il trovare gli oggetti Armi E tutto ragazzi Anche i file Grosso abbraccio Da parte di MisterX e Chiara E godetevi L'ultima battaglia Ciao ciao